buongiorno buongiorno problemi si diciamo volevo una sistemata al clacson se è possibile vediamo subito questi problemi sta a drift e funziona si volevo che lo potesse sistemare diciamo in maniera che potesse suonare più forte forte e sì perché vuoi che il clacson suoni più forte sto senza freni passa la banda